Buongiorno a tutti e benvenuti al primo episodio di G-Talks. Io sono Marco Burattino e faccio parte di Guideware, società leader globale nel software di core business per le imprese di assicurazione. G-Talks è un'iniziativa che ha l'obiettivo di discutere del mercato assicurativo allo scopo di conoscerlo meglio e provare a comprenderne l'evoluzione. Quella di oggi è una puntata pilota in cui proviamo a delineare il contesto in cui ci muoviamo e magari proviamo a individuare alcuni temi da approfondire per le prossime puntate. Per farlo usiamo questo approccio. Partiamo fotografando alcuni segnali di trasformazione che stanno accadendo nel mercato globale, poi facciamo lo stesso con il mercato assicurativo italiano. Guarderemo una fotografia molto recente di quello che accade nel mondo, mentre per le assicurazioni il nostro orizzonte di osservazione sarà più esteso, visto che il settore ci mette un po' più di tempo a cambiare. Infine proviamo a mettere in relazione i due mondi per vedere fino a che punto le assicurazioni hanno recepito questi cambiamenti, come li stanno interpretando e quali indizi possiamo trovare per fare delle previsioni. Cominciamo e vediamo cosa è successo in questo autunno che sta per finire. A settembre del 2021 sono successe due cose interessanti. Da un lato l'Algeria è stato l'ultimo paese ad abolire la vendita al dettaglio di carburanti al piombo. Dall'altro Tesla Model 3, un'auto interamente elettrica, è stata l'automobile più venduta in Europa. Ora non so come la pensate sui risultati del COP26 di Glasgow, ma mi viene da dire che questo sia un segnale abbastanza rilevante di come ci si stia prendendo cura dei cambiamenti climatici. Il 28 ottobre, alla fine di ottobre del 2021, Mark Zuckerberg ha presentato Meta, che non è soltanto il nuovo nome di Facebook, ma segnala anche una chiara direzione sull'evoluzione dell'azienda. Il metaverso, cioè una versione evoluta del nostro io social, potenziata attraverso realtà aumentata in intelligenza artificiale, promette di diventare un nuovo mercato, in cui tra l'altro rispondendo a quella che è un'esigenza perenne per questi giganti. Anche perché del resto, quando la capitalizzazione di un brand come Amazon supera il PIL di un paese come la Spagna, è chiaro, si capisce subito come i spazi per consentire un'ulteriore crescita a questi player debbano essere molto ampi. Terzo, con la pandemia e con tutte le apprezzioni che questa ha generato, si sta facendo sempre più largo un pensiero che chiede di più alla nostra esperienza professionale. Le serie TV come Ted Lasso portano esempi di leader che magari possono essere anche incompetenti, ma riescono ad avere successo grazie alla loro gentilezza ed empatia. Sempre più persone stanno cambiando lavoro se non vanno d'accordo con i propri capi o se non sentono un reale senso di appartenenza verso l'impresa di cui fanno parte. Finita l'analisi di questi trend, passiamo ora ad osservare i cambiamenti che sono occorsi nel mercato assicurativo italiano di recente. Non parleremo di cose accadute negli ultimi tre mesi, ma guarderemo un orizzonte temporale più ampio, come detto, perché lo specifico settore ci mette un po' di più a cambiare. Primo trend, la concentrazione. Salta all'occhio come si è in corso una profonda ristrutturazione nel mercato assicurativo italiano, se solo osserviamo che 7 dei primi 20 player ha avuto a che fare con operazioni di acquisizione e che 5 di queste operazioni sono state concluse negli ultimi 18 mesi, quei 18 mesi in cui per molto tempo non ci è stato possibile uscire di casa. Le banche. Le banche stanno cambiando mestiere. Il margine da commissione, ovvero quello che guadagnano generalmente sulle assicurazioni, diventa l'ancora di salvezza laddove la tradizionale funzione creditizia ha perso progressivamente di redditività. Infine, il salute. Se negli ultimi 5 anni il mercato danni in Italia è cresciuto del 5% complessivamente, nello stesso periodo il business salute è stato in grado di raggiungere una crescita del 25%. Ecco, ora che abbiamo descritto questi trend, cerchiamo di mettere in relazione tra loro queste cose e facciamo altre due cose. La prima, troviamo un titolo, una sintesi della correlazione. La seconda, mettiamo al centro quello che è già successo nel settore assicurativo, come fosse la punta di un iceberg e facciamoci aiutare dagli ultimi avvenimenti con cui abbiamo iniziato questa analisi per cercare di scoprire come è fatta la parte di iceberg che sta sotto il livello del mare. Iniziamo allora dalla prima. Il primo titolo che abbiamo scelto è sopravvivenza. Il cambiamento climatico si è imposto ultimamente come priorità globale e indifferibile e sta trasformando il settore automotive molto velocemente. Il fenomeno di concentrazione in atto invece nel settore assicurativo, con questa portata, ci dice che le compagnie sentono effettivamente il bisogno di essere più presenti e capaci di indirizzare i bisogni dei clienti in maniera più personale e a 360 gradi. Secondo questo punto di vista, la parte sommersa dell'iceberg suggerisce un'evoluzione in cui l'assicuratore debba cercare di essere più centrale nella vita delle persone, risolvendo problemi atavici di quantità e qualità delle interazioni. In questo senso, l'Internet of Things, e l'IoT diventa una leva strategica ancora più centrale su tutte le linee di business e non più soltanto sul settore auto. Il secondo titolo scelto invece è Crescita profittevole. La ricerca di nuovi mercati di domande è un fenomeno ormai noto per i giganti della tecnologia, player che hanno raggiunto dimensioni talmente grandi che hanno bisogno di orizzonti di crescita sempre maggiori. Ed è in questa luce che abbiamo letto e va letto secondo noi la transizione di Facebook verso Meta. Nel mondo dei servizi finanziari invece è definitivamente partito il percorso di transizione che porterà banche ed assicurazioni a cambiare nome, a diventare semplicemente istituzioni finanziarie a 360 gradi. La parte sommersa dell'iceberg per il settore dei servizi finanziari dovrà fare i conti con questo cambiamento, che in realtà alla fine è già in corso da qualche anno e d'altro non è che l'ultimo stadio della digitalizzazione del mondo. Probabilmente prima ancora di aver imparato ad assicurare il cyber risk, le assicurazioni si troveranno a dover immaginare l'applicazione dei 18 rami del business del mondo d'anni a un oggetto assicurato nuovo, che è la versione virtuale di noi stessi. Infine, il terzo titolo scelto è Purpose. Abbiamo detto che il mondo sta cambiando anche in relazione ai sistemi di valori e alle scale di priorità che ognuno di noi ha. È certamente visibile nel settore assicurativo non soltanto una transizione dalla sanità pubblica a quella privata in termini di cifre e di dimensioni, ma non è soltanto un fattore quantitativo. Ne esiste anche uno qualitativo che guarda a prevenzione, benessere, consumi e comportamenti responsabili, che modificano il significato stesso del termine salute, passando da semplice permanenza in vita a maggiore attenzione per la vita e la sua qualità. La parte sommersa dell'iceberg in questo caso secondo me è ben rappresentata dalle prime due righe del comunicato stampa in cui recentemente Lemonade ha comunicato l'acquisizione di Metro Mile. L'Emonade è un insurtech che si descrive come l'assicurazione che tiene al social good e Metro Mile invece come una data science company. Mettendo insieme i due slogan di queste aziende viene fuori una delle frasi più sentite negli ultimi due anni, cioè che la scienza sia al servizio della salute e del benessere, che è un obiettivo che credo sia qui per restare e farà parte delle nostre vite ancora un bel po'. Ecco, siamo arrivati alla fine di questa introduzione di G-Talk che volevamo fare oggi. Abbiamo voluto darvi un assaggio di alcuni dei temi che vogliamo approfondire e lo faremo con ospiti che di volta in volta inviteremo. Spero che quanto avete ascoltato sia stato stimolante e spero che seguirete anche le prossime puntate di G-Talks. Grazie, ciao!